La lunga lista di morti sul lavoro, l'intollerabile e dolorosa progressione delle morti e degli incidenti sul lavoro sollecita un'urgente e rigorosa ricognizione sulle condizioni di sicurezza nelle quali si trovano ad operare i lavoratori e il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata dedicata a chi perde la vita sui luoghi di lavoro. Uno scandalo inaccettabile per un Paese civile, sottolinea il Capo dello Stato, un fardello insopportabile per le nostre coscienze.